Ed eccoci pronti a ripartire portando le lancette musicali oggi al 1994, un anno speciale, quantomeno per Inegrita, che pubblicarono all'epoca Cambio. Canzone manifesto del gruppo inserita nell'eponimo Debut Album, è la dimostrazione della prima amata versione della band fresca, scansonata, senza fronzoli. Il loro rock è diciamo così terreno, viscerale, trascinante, è molto autentico, non sono ancora pronti per esplodere ma i semi sono ormai stati gettati. Infatti sappiamo che poi il gruppo è esploso, effettivamente si è affermato e oggi è pronto per un nuovo tour che ha annunciato di recente. Volete un nuovo tour? E noi vi diamo un nuovo tour. Con queste parole infatti la rock band italiana ha reso felici i fan raccontando dei nuovi dieci appuntamenti fissati per la primavera del 2025. Mi raccomando vogliamo vedervi saltare e scatenare sotto il palco, hanno aggiunto sui propri profili dei social network. Questo tour sarà l'occasione per presentare dal vivo il nuovo album di inediti di prossima uscita dei Negrita, un nuovo disco il cui titolo non è ancora stato svelato e che arriverà comunque nel 2025, a sei anni di distanza dall'ultimo disco in studio intitolato Desert Yacht Club. Tornando a cambio, era il primo singolo proprio dei Negrita, estratto dall'omonimo album, il primo della band e il brano era stato inserito poi nella colonna sonora del film Così è la vita di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il videoclip mostra tutti i componenti della band suonare nudi coperti soltanto dagli strumenti. In alcune scene si vede il contrasto dei colori, il negativo e alcune scritte che accompagnano anche alcuni versi della canzone. Tra l'altro i Negrita, dopo questo brano, hanno collaborato ancora con Aldo, Giovanni e Giacomo ma soprattutto sono appunto molto cresciuti e sono diventati estremamente popolari. Formatisi all'inizio degli anni 90 ufficialmente a Capolona in provincia di Arezzo, prendono un nome dal brano dei Rolling Stones e i Negrita. Al principio però il nome era Gli Inudibili ed era circa metà degli anni 80, poi dal 91 ecco la variazione di nome in quella attuale. Nell'estate del 1993 hanno lavorato alla registrazione del loro primo album che appunto è quello omonimo da cui viene estratto cambio. Importante è anche la collaborazione con Luciano Ligabue, per esempio con il brano, l'han detto anche gli Stones contenuto nell'album A che ora è la fine del mondo, in cui il gruppo toscano ha partecipato agli arrangiamenti per promuovere ulteriormente l'album. Poi il gruppo ha realizzato anche i videoclip per le canzoni rumore e lontani dal mondo, oltre a una tournée di 140 date sparse tra i vari club di tutta Italia. L'anno successivo è stata invece la volta del secondo album, Paradisi per illusi, le cui sonorità hanno rappresentato una fase di transizione verso le successive pubblicazioni dei Negrita. I brani in questo caso sono sei, più una traccia fantasma, Ambience. Il tour è proseguito insieme alla rotazione dei singoli oltre il confine con l'omonimo videoclip e Io sono. Da allora sappiamo quanta strada hanno fatto fino ad arrivare all'attuale formazione, composta da Paolo Pau Bruni, alla voce chitarra armonica bocca, Enrico Drigo Salvi, alla chitarra solista, Cesare Mek Petricic, chitarra ritmica, Giacomo Rossetti al basso ai cori. Entrato, in questo caso nel 2014, ma tuttora presente, Guglielmo, Ridolfo, Gagliano, pianoforte, tastiera, violoncello, che è parte di Negrita dal 2013, e Cristiano, dalla pellegrina, alla batteria dal 2005. E allora siamo pronti adesso ad ascoltarli insieme, proprio con la citata Cambio.